Come investire 100.000 euro al meglio? Ho deciso di girare questo video perché qualche settimana fa ho posto questa stessa domanda all'interno del gruppo Facebook di Affari Miei e leggendo le risposte degli amici che sono intervenuti mi sono reso conto che era proprio necessario girare un video per fare una serie di considerazioni importantissime e per cercare di dare dei contenuti a tutte quelle persone che hanno dato delle risposte ahimè molto pericolose per loro se veramente poi porranno in essere quello che dicono nel video di oggi quindi vedremo una serie di principi chiave che devi conoscere e considerare quando ti approcci in generale agli investimenti e vedremo il nostro metodo in 5 punti per gestire in maniera efficace il tuo patrimonio bentornato sul canale YouTube di Affari Miei io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei Affari Miei è società di educazione e consulenza finanziaria indipendente a partire dal 2014 con la nostra attività ci occupiamo di guidare gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficace se questa è la prima volta che sei qui sul canale ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso che ti permette anche di attivare la campanella delle notifiche per quando pubblichiamo nuovi contenuti se già ci conosci ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da sostenere il canale last but not least se stai muovendo i primi passi nell'ambito della gestione autonoma del tuo patrimonio qui in descrizione trovi un report con 3 ETF scelti dal Centro Studi e Ricerche di Affari Miei che ti sarà da guida introduttiva in questo ambito se vuoi scoprire come investire 100.000 euro al meglio ci vediamo subito dopo la sigla quando ci facciamo le domande introduttive relative alla gestione del nostro patrimonio dobbiamo ragionare soprattutto nell'ambito dei principi i principi vengono prima dell'attuazione pratica uno dei motivi per cui la stragrande maggioranza delle persone perde soldi è perché il comportamento medio tende a cercare lo strumento, il trucco, la strategia senza aver effettuato un'attività pianificativa e soprattutto ricognitiva della situazione esistente prima di cominciare e come amo dire da anni, prima di andare in guerra quindi prima di andare sui mercati finanziari è necessario proteggersi partendo da una serie di considerazioni la prima che probabilmente potrebbe in qualche modo deluderti è che 100.000 euro potrebbero essere pochi soldi o potrebbero essere molti meno di ciò che pensi questo perché bisogna capire qual è la tua situazione di partenza molte persone vogliono investire sui mercati finanziari e quando gli chiediamo se hanno dei fondi per le emergenze sufficienti non qualche migliaia di euro disponibile sul conto in tanti casi balbettano, non sanno neanche loro cosa devono dire l'ideale in questo caso quindi è fare un'analisi di quelli che sono i soldi che abbiamo da parte quindi capire eventualmente se dovesse esserci qualche problema di natura finanziaria che disponibilità immediata abbiamo e soprattutto un altro aspetto importante è assicurarsi le persone si assicurano solamente per quanto riguarda l'RC auto ma quasi nessuno si assicura in caso di premolienze, in caso di infortuni e in caso di tutta una serie di rischi prevedibili, preventivabili che appunto si tende ad ignorare ma prima di investire e quindi prima di esporti al rischio dei mercati finanziari è importantissimo fare tutto questo altrimenti fai la fine di molte persone che investono dopo sei mesi gli servono i soldi, i mercati sono andati male devono disinvestire, perdono un sacco di soldi a breve termine e dicono che la colpa è della borsa la colpa invece è loro che non hanno fatto quello che ti sto dicendo adesso sempre in ambito di protezione un altro tema importante è che se tu hai già assolto a tutto quello che ti sto dicendo ovviamente più tempo hai a disposizione e meglio è perché più puoi aspettare, più puoi investire sul lungo periodo più puoi prenderti dei rischi ponderati e più puoi ottenere dei rendimenti elevati io leggo tante volte le mail che ci arrivano, i commenti che arrivano sui social e tante persone ci dicono ma io ormai non sono più un ragazzino ho bisogno di avere un rendimento immediato, subito eccetera se hai in testa questo pensiero ti metto per iscritto che perderai i soldi se non ti firmi un attimo e capisci che ci sono alcune regole che funzionano sempre indipendentemente dalla tua età e sappi che in tanti casi anche se non ti senti un ragazzino perché magari vai per i 60, lasciami sparare un'età anagrafica a caso in realtà il tempo gioca ancora dalla tua parte se hai fatto una corretta pianificazione finanziaria e soprattutto se lo stai facendo per chi verrà dopo fatte le premisse in termini di pianificazione qualche considerazione va fatta nell'ambito della scelta degli strumenti un primo tema riguarda la diversificazione che è una delle parole ormai più abusate in assoluto le persone pensano che diversificare voglia dire comprare tanti strumenti finanziari a caso e non è difficile farlo perché se ci pensi ormai soprattutto grazie a internet abbiamo una sfilza di strumenti che possiamo acquistare anche in autonomia e se ci facciamo un giro in banca proveranno a venderci tante di quelle cose che non sarà difficile dopo qualche anno avere un portafoglio magari con 30-40 strumenti finanziari sappi che non c'è niente di più sbagliato la chiave per investire al meglio è semplificare il più possibile quindi non ti affannare a comprare cosa a caso modalità shopping perché poi questa situazione la devi gestire ogni singola posizione ha dei costi ha delle criticità, ha dei vantaggi, ha degli svantaggi e se non ti organizzi bene tra qualche anno finirai come tante persone che passano i giorni a guardare il conto titoli a vedere quali posizioni sono in attivo e quali sono in passive e chiedersi che faccio, vendo, non vendo, cambio ah quali sono le previsioni, mi sai dire come andrà a finire e cose di questo tipo che devi assolutamente evitare un altro consiglio importante è quello di non esagerare con azioni singole o obbligazioni a seconda della moda del momento le persone sono quasi sempre tentate da comprare o singole azioni quando vedono che il mercato sale o singole obbligazioni quando magari siamo in un'epoca come quella in cui sto registrando che è il 2023 in cui sono tornate di moda appunto le obbligazioni come dicevo prima 100.000 euro possono sembrare tanti ma da un punto di vista tecnico non sempre lo sono se consideriamo che ci sono azioni che magari hanno un costo elevato quindi magari ti compri due o tre azioni e hai già investito 3-4.000 euro se consideriamo che ci sono singole obbligazioni che hanno un taglio superiore rispetto ai 1.000 euro sui quali siamo abituati a ragionare quando ci approcciamo per esempio ai BTP non ci vuole niente a crearti un 25, 30, 40% del portafoglio su singoli strumenti che aumenta in maniera estrema il rischio di concentrazione se hai investito così fino a oggi magari non sai neanche di che ti sto parlando ma quello che vediamo spesso quando poi spieghiamo queste cose alle persone è letteralmente la bocca che gli cade fino a terra quando gli diciamo guarda che stai correndo un rischio enorme perché stai ancorando la gran parte dei tuoi soldi a due o tre strumenti o a due o tre emittenti o a due o tre aziende non è esattamente così che si diversifica un altro consiglio importante è quello di evitare come la peste le polizze assicurative e i fondi comuni di investimento a gestione attiva 100.000 euro comincia ad essere una cifra per cui la banca ti apre le porte e comincia ad invitarti per un primo appuntamento in filiale e i prodotti preferiti dalla grande industria del risparmio gestito sono le polizze assicurative e i fondi comuni a gestione attiva le polizze assicurative quando usate per investire sono il peggior investimento in assoluto per l'investitore è il miglior prodotto in assoluto da vendere per la banca quindi se t'hanno proposto una cosa di questo tipo drizza le antenne perché nove volte su dieci non farai un buon affare qui mi limito a dirtelo su affari miso avvi tutta una serie di contenuti che approfondiscono questo aspetto in cui ti spiego analiticamente il perché lo stesso si può dire sui fondi comuni di investimento della banca nella stragrande maggioranza dei casi le banche tendono a proporti i propri fondi che sono gravati da enormi commissioni che hanno enormi problemi sulla trasparenza nel senso che non ti viene spiegato dove vanno a finire materialmente i tuoi soldi e quello che succede quasi sempre è che l'unico soggetto che guadagna nel tempo è la banca mentre i tuoi investimenti restano sempre lì o addirittura vanno in perdita senza che tu capisca quello che sta accadendo la stragrande maggioranza dei nostri clienti arriva da esperienze negative di questo tipo dopo aver perso decine di migliaia di euro se non stai capendo quello che ti sto dicendo se senti di non essere esperto continua a seguirci e eventualmente investi sulla tua educazione finanziaria adesso perché il tempo e le risorse che investirà in questa fase saranno sempre di meno rispetto ai soldi che perderai se ti approccerai ai mercati finanziari senza l'adeguata conoscenza te lo metto per iscritto, faccio questo da 9 anni, fidati di me passiamo all'ultimo tema di questo video che è il metodo affari miei per gestire il patrimonio giustamente qualcuno potrebbe dirmi ma fino adesso hai detto solamente cosa non fare, quali sono i principi e tutte queste cose e sono temi importantissimi scusa se sono diretto e scritto ma la maggior parte delle persone perde soldi proprio perché salta tutto quello che abbiamo visto finora in ogni caso quello che è il metodo affari miei è l'approccio che noi da anni utilizziamo con i nostri clienti partendo da quelli che noi sono i punti chiave cioè l'educazione finanziaria il metodo si compone di 5 punti il primo punto è quello della conoscenza abbiamo già iniziato insieme oggi a cercare di capire qual è il contesto in cui ci muoviamo qual è il contesto in cui decidiamo di investire i soldi e soprattutto quali sono le alternative che abbiamo davanti noi diciamo sempre che se non capisci le cose finisci per pagarle di più o per ottenere l'esatto opposto di quello che ti serve e l'investimento in conoscenza ti serve proprio per sapere quello che devi chiedere quando vai a investire i soldi il secondo punto del nostro metodo è quello della consapevolezza nonostante io abbia spiegato quali sono i primi passi che devi muovere sono sicuro al 100% che la maggior parte delle persone che guarderà questo video ha già degli investimenti nella stragrande maggioranza dei casi ha già vissuto la situazione che ho descritto ma non è in grado di comprendere appieno gli errori che ha commesso o se ha compreso di aver commesso degli errori non è in grado di uscirne la consapevolezza è ciò che viene dopo la conoscenza io prima capisco che cosa devo fare e che cosa non devo fare e poi nel momento in cui divento consapevole sono in grado di individuare le azioni che devo porre in essere per passare al terzo punto che è la definizione degli obiettivi e della strategia un obiettivo si differenzia da un sogno perché ha un fondamento di verità e soprattutto è concreto se io non conosco il contesto in cui mi sto muovendo non posso mai avere un obiettivo reale, concreto capisci benissimo che io non posso avere l'obiettivo di vincere i 100 metri se non ho mai praticato l'atletica se dicessi adesso pubblicamente il mio obiettivo è vincere le prossime olimpiadi vincere loro nei 100 metri probabilmente ti metteresti a ridere perché diresti al massimo questo è un sogno un obiettivo realistico per me, che sono una persona normale come te può essere quello di correre per 5, 10, 20 km se mi alleno un po' alla volta lo stesso tema riguarda anche quando ci approcciamo alla gestione degli investimenti se tu vuoi avere un obiettivo concreto devi capire di cosa stai parlando devi fare i precedenti step quando hai capito e sei consapevole del contesto in cui ti muovi puoi dire ok il mio obiettivo è raddoppiare il capitale avere una pensione serena avere un capitale tra x anni che mi permetta di fare A, B, C, D lasciare più soldi ai miei redi qualsiasi altra cosa tu abbia in mente ma tutto questo deve essere misurabile, realistico e in funzione di ciò elabori la tua strategia quindi dici ok devo investire per 8 anni devo puntare ad avere questo rendimento devo farlo in questo modo eccetera eccetera e qui arriviamo al quarto punto che riguarda la scelta degli strumenti e della piattaforma le prime domande che ci vengono poste sempre riguardano quali strumenti devo comprare cosa pensi degli strumenti che ho sottoscritto o che vorrei sottoscrivere o quale piattaforma dovrei scegliere se voglio cominciare a investire ma tutto questo se mi hai seguito con attenzione fino adesso ti renderai conto è piuttosto furviante se non abbiamo capito prima quello che dobbiamo fare quindi la scelta degli strumenti arriva dopo che abbiamo capito ciò che dobbiamo fare pensa a quando prepari la valigia per le vacanze a seconda di dove vai se hai deciso di andare al mare se hai deciso di andare in montagna se hai deciso di andare al polo nord successivamente sceglierai quali sono gli abiti che devi mettere in valigia non è che prepari la valigia prima senza sapere dove stai andando in vacanza lo stesso accade anche appunto per la gestione del patrimonio il quinto punto del nostro metodo riguarda la revisione periodica e l'eventuale allineamento della strategia rispetto a nuovi obiettivi solo gli stupidi non cambiano mai idea quindi tutti quanti noi nel corso della vita possiamo cambiare idea possiamo cambiare obiettivi periodicamente è importante sedersi analizzare quello che abbiamo fatto fino a quel momento e soprattutto domandarci se ciò che stiamo facendo è ancora in linea con i nostri obiettivi o dirmi capirai che se passi tutta la vita a comprare strumenti poi guardi tutti i giorni l'andamento sul conto titoli poi cerchi opinioni online poi chiedi al nuovo consulente poi passi da un'altra parte eccetera non stai facendo una revisione stai semplicemente facendo il gioco della grande industria del risparmio gestito che vive sostanzialmente di commissioni d'ingresso commissioni d'uscita soldi che ti paghi in tutti i modi ogni volta che fai operazioni senza che sia mai al centro veramente la tua vita senza che mai qualcuno ti chieda se ciò che stai facendo si sposa con quello che vuoi con quello che sei e con quello che vorresti magari per le persone che ami oppure no invece tutto questo è estremamente importante e seguendo gli step che ti ho indicato finora a un certo punto chiaramente questo diventerà naturale non avrai bisogno di andare magari sui forum online a cercare a destra e a manca sperando che qualcuno che magari ne sa meno di te ti dia una dritta giusta se hai guardato questo video fino ad oggi hai già iniziato ad applicare il metodo affari miei perché hai già cominciato almeno dal primo step ovviamente tutti questi temi vengono approfonditi nei nostri percorsi educativi quindi se sei interessato ad approfondire scrivici trovi tutti i riferimenti in descrizione e il nostro staff eventualmente ti guiderà nelle soluzioni più adatte a ti io mi auguro che questo video ti sia stato utile che soprattutto ti abbia aperto gli occhi rispetto a tutti gli errori frequenti che purtroppo vedo fare alla stragrande maggioranza delle persone fammi sapere nei commenti se ci sono dei temi che non ti sono chiari o che volessi fossero approfonditi in maniera tale da affrontare tutto questo nei futuri contenuti io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato a presto ciao